Non mi lagare, non mi lagare, non mi lagare, mi ne cra... E voilà, abbiamo creato questo sentiero, poi creiamo quest'altro sentiero, uno che porta verso la cibaria di là E un altro che conduce verso di qua, eccolo, il cretino, ah abbiamo dell'altra, ottimo Allora, io non ho capito che con la gunpowder non ci serve praticamente un cazzo Magari ci creiamo qualche pozione... ah sì, le pozioni da lancio The potion of lancio Con il prancio Distruggiti sesamo Distruggiti sesamo, distruggiti sesamo, distruggiti sesamo Allora Questo qua Distruggiti sesamo, sesamo, sesamo E facciamo... Oh, la stiamo finendo tutta, la stiamo finendo Ma sì, dai tanto, che sono fotte, dai cazzo, dai Certo che con una pala però si farebbe prima, però... vabbè dai lasciamo Lasciam fotte Lasciam Lasciam fotte Et voilà Ses tre magnifiques, ses tre magnifiques Tre beau, tre beau, tre beau Ok, guarda che bello sto sentire però, eh È una vera 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 Fighete Poi di qua Se ne mette un altro Di questi Facciamo La ne abbiamo fatti, vediamo Uno Sono uno, due, tre, quattro E con quello di sopra cinque Salto della fede Uno, due, tre, quattro E con... E dovrebbe esserci con quello sopra di così Cinque Ovviamente non abbiamo con noi Il nostro fido Accendino Guarda come... ma perché muoio così velocemente? È una cosa che non si sopporta proprio Allora la dirt, no, questa la mettiamo di là Spider Eye E Mushroom E Mushroom La Zring Allora vediamo dov'è, dov'è Eccola qua E Mushroom E Mushroom E Mushroom E Mushroom E voilà Poi questo qua si posiziona al posto del Milag Ancora una volta E ne abbiamo due E qua ne servono tre Ne servono tre Cazzo Dai cazzo Gianluca Chi ha lasciato la porta aperta? Oddio, oddio mio, oddio mio Uno Due Dov'è la terra? Due Tre Quattro Ovviamente Ecco Ora sì Ora sì Che si può dire che Viviamo in periferia Allora Quasi un'ora che registro Ok, quindi Direi di Utilizzare quest'altra cosa L'occhio si posa Si posa Vediamo un po' 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 Allora Questo qua ormai è finita Questa anche la si posa Questa è la rotta in flash Desta paia di vinchia Ah, facciamo Qualche boccetta Va E voilà 12, 12 Ah, io dovevo andare A fare il No Ah, ma quindi abbiamo Abbiamo perso anche il coso Mi è venuto un brivido Abbiamo perso anche i secchi Giusto? Quindi 3 6 Ok Abbiamo perso anche i secchi Me ne ero quasi dimenticato Cioè non quasi Me ne ero dimenticato Quindi noi adesso scendiamo Giù Ecco Ora vi faccio vedere Come si fa veramente Il coso Perché Allora Si dovrebbe fare E muoviti a sparire Cazzo Ovviamente non se ne va Si dovrebbe fare in questo modo Che si prende l'acqua Ora ti faccio vedere che non funziona Eccola qua l'ossidiana Eccola qua l'ossidiana Vedi Che profumo di gianduglia Che profumo di gianduglia Vabbè questo qua dai lasciamolo Eh però ho finito la lava Ottimo Bravo il cretino Torniamo Torniamo da sopra Ah no Vedete Dobbiamo riempire Questo qua ce lo portiamo sopra Riempiamo Tata Tata Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vammori Ho fatto una puzzetta Come i cavalli Allora Ma si riempiamo questo qua Così giusto Oddio guarda che bello Così per bellezza lo riempiamo Non è per qualcosa Quindi ora Se mi ricordo Guarda quante bottigliette Se mi ricordo le pozioni però come si fanno Allora Nel frattempo Cuciniamoci sti mushroom Perché tanto Questo Si può Vediamo funge Ah si funge Quattro ciotole Facciamone dodici Guarda come sono bellissime Ste ciotole Proviamo a prenderle in mano Oddio che emozione Che emozione Allora Se non sbaglio questi di qua E questi di qua Abbiamo fatto la mushroom Eh no cazzo Non entrano però Va bene Allora Posiamo la dirt Posiamo le fence Posiamo l'iglass E facciamoci un'altra cesta Eh si Mi sa che ci tocca fare un'altra cesta Allora Allora Tom 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 E sta cesta La posizioniamo De che Questa sarà la cesta Delle cibarie No non è vero Butta 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 Ce ne teniamo due I panini ce li teniamo E Vediamo un po' Allora L'ossidiano Dobbiamo fare Un Questo perchè me lo sto portando dietro Ah vabbè si L'occhio di spider Che se non sbaglio però c'ho velena Sì c'ha velena l'occhio di spider Dobbiamo Facciamo tipo Qualche pozione con la redstone Beh prendiamo anche gli spider Ah no dobbiamo farlo con l'occhio fermentato Forse Solo che non mi ricordo un cazzo io Bomb meal Forse prendiamo anche il bomb meal Può darsi che serve Che prendiamo più Non prendiamo più niente Dai basta così Proviamo col bomb meal Con questo E infatti non capita nulla Sta facendo di nuovo Notte notte Questa la mettiamo qua E proviamo così Facciamone Vai tutte e tre Guarda che bella Guarda che bella Le pozioni Le pozioni Perché è tutto nebuloso La nebulosa Allora Abbiamo otto punti esperienza Io direi Solo che questi qui Sono indecifrabili Ste cose Otto Usiamoli tutti a otto Ah vediamo Smith due Knobbeck uno Fire Aspect uno Oddio quindi Boh Non succede un cazzo Aspetta ma prima forse Non era così Ora l'andiamo a provare Su qualche malcapitato Che ci troviamo Dinanzi Eccolo Ce ne sono parecchi Di malcapitati Oggi Sul Cucuzzolo Eccolo anche Il creeper Grande Eh ma tu sei già morto Quindi Su di te Eh grandissimo Ma grande Gli do fuoco Grande Cioè gli ho dato fuoco Bellissimo dai No Poi questo lo ripariamo Quando mi girano Quando non mi girano Le palle Ma grande Proviamo di nuovo Di nuovo Di nuovo Ora Se cadiamo giù però Non è una bella cosa Eccolo One zombie One kill Grandissimo Ma dai Gli do fuoco E' una potenza E' una potenza Sto fatto di Incantare gli oggetti Qua di incantare Grande Guarda che Fa un effetto pure Bello Mamma come l'ho detto Bruto Bello Grande la mia Spadona Incantata Grandissimo Grande Torniamo sopra Devo fare tipo una porticina Quindi nel frattempo Credo che ormai Abbia Finito Ok la pozione è mondana Che non ha effetti Però Se noi Se noi niente Se noi dobbiamo prendere Quell'altra cosa Se noi Prendiamo la powder Allora Proviamo così No vedi Non funge Quindi dobbiamo prima Metterci Neanche l'occhio di spider Come si fermenta però Allora No no Non me lo ricordo Prendiamone uno solo Poi basta Perché quelli lì ci serviranno Poi Quindi se io metto Questo qua Non capita Nulla Assolutamente nulla Però Se ci metto l'occhio Non capita neanche nulla Come è possibile Però con questa qui Credo che dovrebbe Fermentarsi Quindi Edino non funge Proviamo Allora No No proprio Non me lo ricordo proprio Allora Se non sbaglio Deve avere un effetto Per poterla Aumentare o diminuire Però visto che non ha Effetti Noi con cosa E lo facciamo fare Questo effetto Servirebbe la lacrima Di gust Proviamo con le No Le pepite non servono Le pepite no Va Perché la Ah bozzitano Non ci serve No No Queste non si infilano Proprio Nulla Non devo Constatare un pochino Il fatto Delle Dei cosi qua Allora Questo si posa Bomile si posa Facciamo dell'altro Bomile Quindi Vediamo 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 Allora Abbiamo i meloni Cocoa La sabbia La hull No Cioè Praticamente Io non ho niente Con cui si possa Ehm Aggiustare E aggiustare Ora Mi pare Ok Lì c'è un ragno Quindi non direi Di uscire Non se ne parla Qui dentro C'è qualcosa 42 di Call E niente Bah Non so proprio Dove vedere